Buon pomeriggio dal TGL News. In primo piano la cronaca sono stati rintracciati e denunciati gli autori degli imbrattamenti alla palazzina della mensa scolastica dell'istituto Ghittoni di San Giorgio, imbrattamenti avvenuti nel gennaio del 2017. Si tratta di sette ragazzi minorenni di età compresa tra i 15 e i 17 anni. Sono andati a vuoto invece due tentativi di truffa ai danni di due donne anziane di Carpaneto e Lugagnano. In entrambi i casi i malfattori hanno chiamato spacciandosi per i nipoti e dicendo di avere la necessità di denaro in seguito ad un incidente stradale. Voltiamo pagina, sono 228 i posti previsti dall'offerta per i nidi di infanzia del comune di Piacenza. Le iscrizioni si apriranno domani. La principale novità delle prossime iscrizioni riguarda il rispetto dell'obbligo di vaccinazioni come requisito di idoneità alla frequenza. Dallo smog alla pertite si parlerà di ambiente questa sera fuori sacco per Piacenza. L'appuntamento è su Telelibertà alle 21. E da un'altra giornata di vigilia per il campionato di Lega Pro domani scenderanno infatti in campo il Piacenza alle 14.30 in trasferta contro il Racing Roma ultimo in classifica mentre al Garilli domani sera alle 20.30 sarà protagonista il Piacenza contro il Como. È tutto, ci ritroviamo per l'edizione delle 18.